Nel recupero della seconda giornata di campionato al Braca di Torgiano il Villa Biagio cerche tre punti per balzare al comando della classifica. Mister Guastalvino deve però rinunciare oltre a Gramaccia allo squalificato Porricelli mentre sull'altra panchina l'elenco degli indisponibili già lunghissimo si è arricchito della Tegola Fondi, per lui necessario l'intervento chirurgico al menisco se ne riparerà tra qualche settimana. L'attacco già anemico dei giallo-blu è così ai minimi storici ma subito il Torgiano pericoloso nel nostro montaggio dopo 25 minuti di studio è ottima l'imbeccata di Giambi per Giacchettini che tutto solo davanti a Kikric entra alla traversa. La grande squadra si vede quando è in difficoltà e allora ecco la giocata del singolo Cardarelli approfitta di un errore di raspa salta morrone e deposita in rete al 35esimo. Sfortunato ancora il Torgiano dopo due minuti quando una mischia in aria fa carambolare il pallone sulla parte alta della traversa e poi sul fondo con Giambi che era pronto a depositare comodamente in gol. Poi sull'angolo Luchini il migliore in campo va al tiro e sfiora il palo. La risposta ospite è affidata un calcio di punizione di Tomassini con la palla che termina di poco alta. Si chiude il primo tempo con i padroni di casa che non meriterebbero di essere sotto. Ma la ripresa porta subito il meritatissimo pareggio del Torgiano quando al quarto Batini sfugge a tutti e con un pallonetto preciso beffa Kikri inspiegabilmente troppo fuori dai pali. Pericoloso Bulla al nono quando riceve un appoggio di Cardarelli ma Morrone para a terra. Si rinnova il duello tra i due al 27esimo ma la conclusione dell'ex Spolettino è troppo debole. In pieno forzing ospite favorito anche da un calo atletico sembra buona la palla per il nuovo vantaggio quando Cardarelli serve un cioccolatino impegnare a Tomassini che però alza sopra la traversa. Il gol è rinviato solo di qualche minuto al 34esimo dopo una serie di tre interventi prodigiosi di Morrone. Leonardo Agostini da pochi passi mette dentro proteste dei padroni di casa per un presunto fallo di Tomassini in precedenza su Raspa. Questo successo che regala il primato alla squadra di Guastalvino potrebbe essere quello decisivo mentre per Angelini questa bella gara dove decisamente per lunghi tratti non si è vista la differenza tra la prima e l'ultima potrebbe essere così uno spunto per cercare di rendere al meglio sempre in questa ultima parte della stagione.